La città di Napoli, medaglia d'oro al valor militare, ad Antonio Amoretti, presidente provinciale dell'Ampi, in segno di infinita e profonda gratitudine per la sua lotta di partigiano delle quattro giornate contro il nazifascismo, per l'affermazione dei principi di democrazia, giustizia e libertà, in occasione e qual augurio per il suo novantesimo compleanno di una vita vissuta sempre, con passione e rigore morale e quale streno combattente contro ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e sopraffazione. Napoli, 11 settembre 2017. Sono particolarmente emozionato che non mi aspettavo questa accoglienza di tanti amici e compagni questa mattina. Protagonista delle quattro giornate di Napoli, una vita trascorsa contro il nazifascismo e in nome degli ideali di libertà, giustizia e democrazia, Antonio Amoretti riceve in comune un festeggiamento speciale per il suo novantesimo compleanno. Alla presenza di familiari ed amici e del professor Guido D'Agostino dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, gli ha consegnato la targa della città. È stato poi siglato tra comune e comitato provinciale dell'Ampi, un protocollo di intesa per l'affidamento di alcuni locali della Galleria Principe, nei quali nasceranno la Casa della Resistenza in Campania e il Museo delle Quattro Giornate di Napoli. Un protocollo molto importante tra il Comune di Napoli e l'Ampi, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, Casa della Resistenza in Campania e Museo delle Quattro Giornate di Napoli. Per non dimenticare che siamo stati la prima città d'Europa a liberarci da sola dal nazifascismo con una rivolta di popolo, quindi memoria storica, ma anche memoria dinamica. Infatti in questi locali che abbiamo messo a disposizione come Comune di Napoli ci saranno progettazioni per idee, per costruire lotte nei confronti dei nuovi fascismi, per mettere in campo le nuove resistenze e per non sottovalutare nulla di un quadro autoritario, revisionistico e anche profondamente antidemocratico che si vede, si delinea anche di una brutta aria che in alcuni luoghi si comincia a respirare. È un primo passo molto importante, questo è il segno che la città, che l'amministrazione vuole con noi portare avanti la memoria storica, trasmettere ai giovani particolarmente l'ideale della resistenza e dell'antifascismo. Questo è il compito dell'ambito, è il mio compito che da anni mi sono assunto e che continuerò finché le forze me lo consentiranno, parlare con i giovani per far capire loro che cosa è stato il fascismo, la guerra, la resistenza.